Ma perché Ashrafakini ha esultato mimando il passo del pinguino nella vittoria contro la Spagna? Il rigore più importante di Spagna-Marocco si presenta uno dei giocatori di maggior qualità del Marocco Su un dischietto del rigore, un pallonetto che non vi sto neanche a dire, è l'esultanza polemica nei confronti di chi? Non è la prima volta che si vede questa esultanza perché questa esultanza è già stata riproposta al PSG con il compagno di squadra Sergio Ramos E quindi questo risultato sembra essere una frecciatina al citidra nazionale spagnola Luis Enrique per non aver convocato il suo compagno di squadra Sergio Ramos ai mondiali